Ciao ragazzi, oggi è il 14 settembre 2013, sempre da Torino, adesso siamo nell'hotel Olympic di Torino, 4 stelle, noi siamo 5 stelle, ma c'è sta reddingerina, una figata, sarà televisore LG, ciabattine incorporate, poi frigo bar abbiamo già preso l'acqua gasata, non so quanto ci verrà a costare, chi se ne frega, tanto si vive una solta sola, c'è anche, guardate cosa c'è nel frigo bar, guardate ragazzi, allora nel frigo bar c'è acqua, vabbè, succhi di frutta, birra, e poi c'è anche lo spumantino, poi c'è un Kinder Bueno e ci sono i Fonzis, poi qui ci sono invece le noccioline, insomma alimentazione sana, si proprio sana, aio, poi, niente, possiamo dormire fino alle 10 e mezza, che poi c'è, dobbiamo fare la prima colazione a bucchia, poi guardate il bagno, possiamo andare entro mezzogiorno, dov'è la luce? Il bagno, guardate che figo, è qua la luce, qui c'è un bello specchio, guarda lo specchio amore, no? Eh sì, ma così mi inquadro anch'io, non so ne va, qui la doccia, qui la doccia, qui c'è il bagno e il bidet, il bidet è un po' posizione scomoda, perché c'è la carta igienica lì? Eh, perché qualcuno lo lascia lì, ah non è la carta igienica, è quello, è quel foglio igienico che lasciano sempre, quando, va bene, stessa il video non sto facendo tutto e guardando niente, rifacciamo vedere la stanza, una figata, mobile per, saluto a tutti e buonanotte, buonanotte a tutti amici del web, da Osvaldo, e da, e da, e da Sara, ora le faccio rivedere, ma cos'era un'altra figata che avevo detto che figata, oltre il frigo, vabbè ci sentiamo domani, ciao ciao!